Fiamme lungo l'Aurelia, evacuato il liceo, è accaduto al Chini Michelangelo di Camaiore, sgomberata a titolo precauzionale la scuola a causa di un incendio nei terreni vicini. Ciclista travolto si costituisce donna di 30 anni, sarebbe stata lei ad investire l'uomo poi deceduto, lo avrebbe scambiato per un animale. Il Festival della Sintesi trasloca a Via Reggio, Via da Lucca l'edizione 2023 della manifestazione. Secondo gli organizzatori questo cambio migliorerà la struttura organizzativa dell'evento. Il CGC si gioca la promozione contro il Montecchio sabato sera al Palabarsacchi, la finale della Serie A2, partono anche i play-off di A1. Ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale, lo avete sentito anche dai nostri titoli di apertura in primo piano, le fiamme divampate in un terreno vicino alla via Aurelia. Partiamo da qua con il servizio di Luigi Casentini. Dicono che si è partito da una casa in realtà, che si è entrato nel giardino, all'inizio sta prendendo fuoco l'erba e poi ha preso fuoco un albero, quindi non si sa, però altra gente pensa che sia stato qualcuno che ha tirato una sigaretta. Si, si pensa che sia... Mi hanno fatto uscire, cioè subito, avete tutta la roba dentro. Sì, subito, appena ha suonato l'allarme abbiamo preso e siamo usciti, se ne è accorta una ragazzina di seconda. Fine mattinata movimentato per gli studenti del liceo Chini Michelangelo di Lido di Camaiore. Intorno alle 13 alcuni alunni hanno dato l'allarme dopo che l'intenso odore di fumo si è diffuso all'interno dell'edificio e all'esterno erano visibili alte le fiamme in un terreno adiacente al giardino della scuola. Immediato l'intervento di tre squadre dei vigili del fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme, mentre il personale scolastico ha proceduto a fare evacuare i ragazzi che hanno atteso la fine dell'intervento nel piazzale di fronte alla scuola. Appena ci siamo accorti delle fiamme che si sono sprigionate dal terreno accanto, probabilmente, non lo so, forse mozzicone tirato dalla via Aurelia, non so, però nel terreno accanto non era dentro la scuola, però abbiamo provveduto immediatamente a fare evacuare tutti i ragazzi, accompagnati dai loro docenti. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche militari della stazione di Lido per verificare le cause dell'incendio. Le fiamme, che hanno interessato un terreno incolto, sembrano essere partite da bordo strada lungo l'Aurelia. Probabile che un mozzicone di sigaretta abbia innescato il polline dei pioppi, che ha poi originato il rogo che ha interessato anche un manufatto in legno. La situazione è tornata alla normalità nel giro di circa un'ora, con i ragazzi che sono potuti rientrare nella scuola per recuperare gli effetti personali e tornare a casa. Si è costituita l'investitrice del ciclista Marina di Massa, Ciprian Cernacut, rumeno di 34 anni, ucciso nella notte di mercoledì lungo via Verdi nella zona di Poveroma, Marina di Massa. Si tratta di una giovane di 30 anni che si è presentata ai carabinieri, riaffermando di aver creduto di aver investito un animale. Salvo poi leggere sui siti la notizia dell'uccisione del ciclista, a quel punto avrebbe deciso immediatamente di presentarsi in caserma per affermare la propria responsabilità dell'incidente. Per lei è scattata la denuncia per omissione di soccorso e omicidio colposo. Veniamo agli aggiornamenti riguardo all'andamento della pandemia. Sono poco più di 300 nuovi positivi a livello regionale. Ecco il dettaglio nella nostra grafica. 307 i nuovi positivi, l'età media di 54 anni. Il tasso di positività è al 9,8%. 247 il numero dei pazienti ricoverati nei posti letto Covid. Il dato è stabile rispetto al giorno precedente. 17 invece il numero delle terapie intensive in aumento di un'unità. 3 i decessi, di cui 1 nella nostra provincia di Lucca. Ecco allora anche il dato provinciale. Sono 19 i nuovi positivi in provincia. Cambiamo pagina. Il Festival Dillo in Sintesi Lascia Lucca nel 2023 si terrà a Viareggio. Il Festival della Sintesi Lascia Lucca. L'edizione 2023 della manifestazione si svolgerà a Viareggio. L'annuncio a sorpresa è arrivato dall'organizzatore dell'evento Alessandro Sesti, presidente dell'Associazione Dillo in Sintesi, che in un comunicato spiega come la crescita del Festival e la visibilità che si è guadagnato a livello nazionale comportino la necessità di migliorare la struttura organizzativa della manifestazione. Sulla base di queste esigenze il Festival ha quindi deciso di chiudere un accordo con la città di Viareggio, che spiega Sesti, ha abbracciato con entusiasmo il progetto, assicurando di poter fornire risposte adeguate alle nostre esigenze di crescita. Un addio polemico quindi con l'amministrazione comunale di Lucca, maturato tra l'altro a meno di dieci giorni dalle elezioni. Nel comunicato si legge tra l'altro che con questo cambio finalmente la manifestazione potrà contare sulla piena collaborazione delle strutture comunali e sull'inserimento del Festival nel calendario degli eventi a fianco delle iniziative più importanti, garanzie che evidentemente secondo Sesti a Lucca non ci sono state. Al di là del trasloco a Viareggio restano valide le collaborazioni del Festival con la provincia di Lucca, l'ufficio scolastico territoriale, la fondazione Ragghianti e il conservatorio Boccherini. E nella mattinata del 2 giugno un giovane di 29 anni, cittadino del Bangladesh, ha consegnato alla questura un portafogli rinvenuto in Viale Puccini con all'interno la somma in contanti di 520 euro e i documenti del proprietario. Stamattina, poco prima di avviare le ricerche del legittimo proprietario tramite le banche dati, un cittadino nigeriano di 34 anni si è presentato per sporgere denuncia di smarrimento ma con sua meraviglia ha scoperto che il portafoglio era stato già portato in questura. Avrebbe voluto ricompensare il 29enne ma quest'ultimo ha detto di non volere ricompense. Il questore ha voluto incontrarlo per ringraziarlo personalmente per il bel gesto compiuto. Torniamo a Viareggio, taglio del nastro con le pattine per la terrazza della Repubblica. Le pattine. È stata questa la risposta del sindaco Giorgio Del Ghingaro a tutte le critiche che sono state sollevate riguardo la scelta del materiale per la ricostruzione della terrazza della Repubblica. Troppo delicato il travertino secondo alcuni e così l'ironia ha segnato gli istanti successivi al taglio del nastro per il termine dei lavori del primo lotto con il sindaco che si è tolto le scarpe e ha così percorso la terrazza fino al palco allestito in piazza Zara. Una parentesi ironica per quella che però a tutti gli effetti è stata una giornata storica per la città di Viareggio con il termine di una delle opere pubbliche più importanti realizzate negli ultimi decenni costata oltre 4 milioni di euro. Tutti i soldi del comune di Viareggio ha sottolineato il sindaco dal palco senza la necessità di ricorrere a mutui. È un lavoro mastodontico quello che è stato portato a termine 22 mila metri quadri completamente ripavimentati, ridisegnati direi e soprattutto è importante anche quello che c'è sotto questa pavimentazione perché c'è un lavoro enorme con i sottoservizi, le fognature, l'acquedotto, l'energia elettrica è un lavoro veramente enorme, Viareggio ne ha bisogno, necessità e è un lavoro che dà speranza, perché questo è il secondo lavoro pubblico grande che facciamo e ne abbiamo in programma altri 4 o 5 già praticamente non solo progettati ma anche in fase di gara e quindi penso che entro un anno avremo un'altra serie di lavori importanti da inaugurare a Viareggio. È una ripartenza per l'intera città. La giornata inaugurale è terminata sul palco di Piazza Zara dove il sindaco accompagnato dalla giunta ha voluto ringraziare la città e le maestranze che hanno dato vita alla nuova pavimentazione lasciando poi al microfono alla voce inconfondibile di Manica Iane che da Viareggio ha dato il via al suo Summer Tour 2022. E sabato e domenica sul baluardo San Paolino torna Lucca Medievale. Un fine settimana nel medioevo tra tornei di scherma, cortei e danze storiche e spettacoli di falconeria, esibizioni di musici e sbandieratori. È il ricco programma della sesta edizione di Lucca Medievale la manifestazione organizzata dall'associazione Contrade San Paolino che si terrà sabato e domenica prossimi negli spazi della casermetta San Paolino dove è stata allestita la mostra di costumi storici e sull'omonimo baluardo sulle mura trasformato per l'occasione in un vero e proprio villaggio medievale. Spettacoli e rievocazioni andranno avanti non stop dalle 10 del mattino fino alle 23. Oltre alle spettacoli di rievocazione storica ci saranno anche le bancarelle di artigianato dove i vari artigiani mostreranno al pubblico i loro lavori. Mi fa piacere citare fra un paio che ci sarà il lutaio cui mostrerà le sue creazioni in legno storiche realizzate appunto con gli attrezzi del periodo. In più ci sarà anche il barbitonzore che sarebbe il barbiere e il dentista medievale. All'iniziativa partecipano diversi gruppi di rievocazione storica provenienti da tutta la Toscana. Il programma dettagliato degli spettacoli è consultabile sul sito luccamedievale.it Al Via Sabato, la due giorni di Cartacea l'incontro mondiale del settore tissue a Lucca sono attesi gli operatori e gli addetti ai lavori. 70 studenti a gara di debate il concorso organizzato dall'ISI Pertini Oltre 70 studenti provenienti da tutta Italia si sono sfidati a colpi di battute e argomentazioni in una gara di dibattito. L'iniziativa, organizzata dall'Istituto Pertini di Lucca è la manifestazione conclusiva del progetto nazionale La Forza del Dialogo che ha coinvolto circa 200 scuole in un percorso formativo basato sulla metodologia del debate. Consiste nel dare una mozione su cui i ragazzi devono discutere fare le squadre pro e contro e i ragazzi si preparano cercando i materiali sulla mozione e una squadra sostiene il pro e una squadra sostiene il contro c'è un'altra parte dei ragazzi che fanno invece l'arbitraggio e alla fine viene dichiarata la squadra vincitrice e spesso la cosa bella è che non si dà il pro a chi è pro e il contro a chi è contro ma viene estratta a sorte e quindi è proprio l'imparare la tecnica del difendere una tesi. I ragazzi suddivisi in squadre hanno quindi ricevuto il tema del proprio intervento. Le classi della scuola primaria ad esempio hanno dovuto argomentare la mozione sull'uso del cellulare per i minori di 12 anni mentre ai ragazzi della secondaria di primo grado è stato chiesto di esprimersi a favore o contro l'utilizzo esclusivo di libri digitali a scuola. Avvocati per un giorno, gli studenti che con la ringa finale convinceranno i giudici e riceveranno un premio di 1000 euro destinato all'intera classe. E adesso l'ancora, la rubrica cura di Sergio Talenti. La pazienza è finita per le farmacie comunali in Toscana entrate lunedì scorsa nel sciopero con esplicito avvertimento dei lavoratori che hanno presidiato la sede della Sofarm a Firenze di rilanciarlo a breve. Ma c'è un dato record che precede le rivendicazioni sindacali. Il contratto non è rinnovato da sette anni, quasi una mezza generazione e con in mezzo un biegno da Covid che ha scaricato sulle farmacie nuove e pesanti responsabilità. C'è da chiedersi se in questo Paese i contratti si facciano ancora e con serio rischio anche per settori insensibili come il sistema sanitario che già alla vigilia dell'estate vede pericolosamente sbandare i presidi del pronto soccorso. Ma se uno allunga lo sguardo e lo si deve fare perché i dati salariali europei dicono che noi siamo gli ultimi o quasi fra i 28 Paesi dell'Unione, c'è da interrogarsi sui lamenti che accompagnano la riforma fiscale o catastale o regime debaneari mentre va silenziosamente alla deriva la tutela dello Stato sociale e con vistose vicende di sfruttamento. Lo vedremo nei prossimi mesi se e come il nostro Paese riuscirà a riconfigurarsi a livello europeo e in condizioni di equità. E con questa notizia chiudiamo la prima parte del nostro telegiornale qualche istante di pausa e poi la nostra pagina sportiva.